Le ricadute sul versante sportivo. Si tratta del progetto di ricerca sperimentale sul movimento umano promosso dalla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Core di Enna, che ha tra i suoi partner anche la Mogela. In Occita, ultimamente, proprio alcuni dei tesserati della società calcistica locale, rappresentanti di tutte le categorie, dalla scuola calcio agli allievi, sono stati protagonisti di una prima fase pratica del piano. La speciale sessione di allenamento è stata curata da Francesco Sgro, ricercatore di biomeccanica del movimento presso l'Ateneo Ennese. Questo progetto nasce dall'idea e dalle collaborazioni che come Università abbiamo ormai istituito da tempo sul territorio, non solo locale, perché noi siamo di Enna, quindi non solo con le realtà locali, ma anche con le realtà dell'intera regione Sicilia, sia a livello professionistico che a livello amatoriale. In questo scenario, la collaborazione con la città di Gela, anche grazie alla presenza del mister Barresi, che è stato nostro studente e attualmente nostro dottorando di ricerca, e quindi ha garantito la contiguità con le attività, nasce proprio con l'obiettivo di valutare una metodologia di allenamento, che è ampiamente utilizzata a livello professionistico, ma con pochi riscontri a livello giovanile. E noi vogliamo valutare se a livello giovanile questa metodologia può avere risultati sia in termini di maturazione fisica, che in termini di maturazione tecnico-tattica. Alla fase pratica del progetto prendono parte anche dieci studenti della Core, che hanno seguito l'allenamento tenuto a Gela per conoscere e vivere in prima persona alcune delle situazioni professionali che potrebbero essere quelle della loro futura esperienza lavorativa. È un metodo che già abbiamo acquisito con la collaborazione prima con la Juve, adesso con l'Udinese. Adesso l'intenzione è quella di proseguire su questa strada, abbiamo avviato anche questa collaborazione appunto con l'Università Core di Enna per portarci avanti, per cercare di esprimerci al meglio, sia dal punto di vista agonistico che deve essere anche visto come un momento di crescita per noi allenatori, noi tecnici. I ragazzi si impegnano, sono sempre costanti e presenti agli allenamenti, ci aspettiamo ottimi risultati quest'anno. Solo attraverso il lavoro su esercitazioni già vissute in gara si hanno dei miglioramenti notevoli sotto l'aspetto tecnico e tattico.